Domenica 24, anzi lunedì 25 gennaio 2021, ero fermo sulle previsioni del tempo di ieri, anche perché di tempo parleremo tra poco, perché tra pochissimo vi darò in anteprima assoluta le previsioni delle cipolle di Urbania, che tutti attendono quando arriva il 25 gennaio, quindi restate con noi, vi diremo come sarà il tempo per tutto il 2021, secondo il barometro delle cipolle di Urbania, e grazie a colei che legge queste spicchi di cipolle, che è Emanuela Forlini. Allora, andiamo con ordine però, parliamo della conversione di San Paolo, che è il santo di oggi, diciamo così, la memoria di oggi. Allora il sole sorgerà da 7.36, tramonterà da 17.08, allora adesso andiamo a vedere il tempo. Le previsioni naturalmente non sono delle cipolle, sono della protezione civile delle Marche, che per oggi prevede precipitazioni sparse di debole intensità in attenuazione nel corso del pomeriggio, più probabili ed abbondanti invece nelle zone interne e nel settore centro-settentrionale. Abbiamo la quota neve intorno ai 900 millimetri, le temperature sono in diminuzione nei valori minimi, invece in lieve aumento quelli massimi. Ancora un po' di vento per la giornata di oggi. Domani invece il sole splenderà su tutta la costa adriatica, con le gelate al primo mattino, nei fondovalle soprattutto, ai monti, cielo poco nuvoloso anche sulla catena penninica. Tempo stabile anche nel resto della prossima settimana. E adesso andiamo subito a vedere i giornali, cari telespettatori di Fano TV. Cominciamo dal Corriere Adriatico, edizione di Pesaro. Scuole sotto sorveglianza, perché oggi si torna a scuola nelle Marche, ovviamente non tutti, uno su due tornerà a scuola in presenza, gli altri stanno a casa. Però il rientro e le scuole soprattutto sono sotto osservazione. Rientro comunque in sicurezza, rafforzata la vigilanza all'uscita degli studenti e alle fermate degli autobus. Tamponi negati invece dalla Regione, quelli negati al Comune di Pesaro. Dopo Ascoli però, che ha creato dunque un precedente, spunta anche a Mandola. E il Sindaco di Pesaro Ricci si dice sempre più incredulo. La centropagina, la fotonotizia, è per il basket, lo sport del lunedì, una super VL da 107 Lode, travolta Cantù, che si ferma a 83. E poi la politica, la politica di spalla tra commissari e dimissionari, il grigio inverno dei partiti vuoti. Sei partiti in Consiglio regionale, liste civiche a parte, cinque di essi sono guidati da commissari o da segretari dimissionari. È la grigia mediocre stagione della politica regionale che ha consegnato le armi agli organismi nazionali. Alcuni partiti, come la Lega e Forza Italia, sono addirittura al secondo giro di commissariamento. Il traghettatore è per sempre. E poi le notizie in breve, si ligate l'esposto di 80 residenti contro le barriere. Amarotta, lesioni all'udito dopo lo scoppio, scatta la denuncia. Calcio di Serie C, Vissi in caduta libera. Fano invece pareggia, buon punto contro il Perugia. E poi da Urbino, Ambera ora è disperata, non ha contatti con Igli, l'avvocato Chiarini sull'indagine per concorso in omicidio rispetto alla madre di Ismaele, dice ma la mia difesa la rivelo al GUP. E poi sulla Fano Grosseto, dalle grave insufficienze, progetto Pezza. Andiamo a vedere adesso il Carlino di Pesaro. La fotonotizia anche qui per lo sport, la VL. Adesso si vola, Pesaro travolge Cantù ed è sesta in splendida solitudine. Scuola si riparte, è indispensabile. Marcella Tinazzi, provveditore provinciale, dice i ragazzi vogliono rientrare in classe, lo faranno in 8.300. Basket giovane, test rapidi per tutti. Torniamo in campo, lo sport che prova dunque a ricominciare. Poi la tragedia, trovato morto in casa il giallo di un 48enne. Tamponi agli studenti in due turni, ecco come farli. Ma tra Ricce e Saltamartini ancora scontro. Gli immunizzati una settimana dopo, tranquilli, finalmente hanno ricevuto la seconda dose del vaccino. Calcio Serie C, fanno che resistenza, il Perugia non passa. Poi la vis che affonda a Legnano, contestazione nella sfida salvezza. Biancorossi a mani vuote, squadra nel mirino dei tifosi al ritorno in città. Apriamo con la questione dei vaccini. Sulla pagina nazionale del resto del Carlino, la questione che riguarda il più grande produttore probabilmente di vaccini, la Pfizer, che è stata anche la prima a metterli in commercio. Ebbene, la Pfizer che promette dosi anche se poi ammette che il piano è saltato. Slitta di un mese la vaccinazione a chi ha più di 80 anni. Tagli alle forniture, nel mirino anche dell'Unione Europea, anche AstraZeneca. Il Vice Ministro Sileri dice daremo priorità al completamento dei richiami. Intanto il Commissario Arcuri attacca i big dei farmaci, trattano i Paesi europei come poveracci. Faremo rispettare i patti. L'Italia è la nazione più danneggiata rispetto a tutti gli altri. Intanto sui ritardi a catena l'esecutivo rivede il cronoprogramma delle iniezioni, delle punture. Tempi più lunghi per chi ha delle patologie. La proposta di Forza Italia. Dobbiamo accedere ai 37 miliardi del MES. Compriamo le licenze così possiamo produrre il vaccino in Italia. E adesso invece la pagina che il Corriere Adriatico dedica al D-Day. Oggi è il D-Day della scuola. Le fermate degli autobus sono sorvegliate speciali. Presidi, anzi, della Polizia Locale per evitare il rischio di assembramenti all'uscita. Al campus scolastico di Pesaro anche il sopralluogo della dirigente regionale Filisetti. E intanto l'emozione della prof che dice sono entusiasta di rivedere i miei ragazzi. La professoressa Simonetta Ligi che insegna lettere al liceo classico Mammiane di Pesaro. Lo scorso dicembre insieme a decine e decine di altri insegnanti degli istituti superiori del Pesarese aveva inviato un'accorata lettera alle istituzioni per caldeggiare il ritorno dei ragazzi tra i banchi. E finalmente oggi il rientro in classe, tanto auspicato e atteso, è arrivato. I vaccinatori possono contagiare, dunque l'immunologo dice no al patentino. Il professor Cozzi condivide l'allarme degli scienziati britannici, il passaporto, questo patentino che dice in sostanza quando una persona è vaccinata e soprattutto non dà sicurezza. Le persone che si sono vaccinate contro il Covid sono protette ma potrebbero albergare ugualmente tracce di virus nelle prime vie aeree e dunque trasmetterlo involontariamente. E quindi questo numero due della sanità inglese ribadisce che è opportuno continuare a seguire le regole di distanziamento anche dopo le iniezioni. Quindi questo è il sacrificio che è richiesto perché poi è evidente che insomma quello che si sa in questo momento, al momento, è che anche chi ha fatto il vaccino sì può stare tranquillo però ecco deve continuare a mantenere la mascherina, a stare distante, a mantenere le mani pulite eccetera eccetera. Perché? Perché può contagiare. Dalle prime vie aeree insomma se il virus alberga magari nella gola eccetera basta uno starnuto e quant'altro potrebbe appunto potrebbe contagiare gli altri. Il dibattito, lo scontro che c'è invece tra l'assessore regionale alla sanità della regione Marche Saltamartini Filippo Saltamartini e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci trova ancora spazio oggi sui giornali. A pagina 12 del resto del Carlino Ricci e Saltamartini volano le accuse. Nelle Marche la guerra dei tamponi. Il sindaco di Pesaro aveva chiesto il materiale, quindi tamponi, alla regione per fare lo screening nelle scuole cittadine. No però dell'assessore. Le regole sono uguali per tutti, ha detto Saltamartini. Ma la replica di Ricci è fossi stato di centrodestra avresti detto sì. Quindi la butta diciamo sulla politica. I rapporti personali tra i due politici sono ottimi ma lo scontro stavolta è stato a tutto campo. Il saluto del governatore a studentesse e studenti delle superiori che dunque oggi tornano in classe è un giorno importante. Ha detto a Quaroli facciamo attenzione però perché la guardia deve restare alta, il virus circola ancora molto, il trasporto è stato potenziato per evitare assembramenti. I ricoveri intanto nelle Marche, i ricoveri in ospedale scendono giù dell'8% in una settimana e dunque la zona gialla si fa adesso più vicina. Quella che comincia oggi, che durerà fino a domenica, dovrebbe essere infatti l'ultima settimana in arancione. Poi si dovrebbe tornare, le Marche dovrebbero tornare in zona gialla. Il confronto su 7 giorni, meno pazienti in terapia intensiva, l'RT sarà migliore, calano i positivi, meno 16%, oltre 4.000 dimessi guariti, ma ieri purtroppo ancora 9 morti, sempre dovuti comunque al Covid, anche se non è soltanto il Covid in sé, ma il Covid certamente in un paziente che ha già altre patologie, quindi soffre di altre patologie, chiaramente il Covid gli dà il colpo di grazia. Il quadro sta migliorando anche se si viaggia a ritmo di 400 contagio al giorno. Ieri altri 525 casi, di cui 191 ad Ancona, dove sono deceduti 5 anziani. Tamponi alle superiori, è tutto quasi pronto. Screening per 9.600, siamo sempre sul Carlino di Pesero, ma è rebus adesioni. Primo turno, giovedì e venerdì prossimi, il secondo il 2-3 febbraio. L'assessore della Dora dice, noi puntiamo ad almeno un 60-70%, le lettere di accettazione per le famiglie devono ancora partire, stiamo facendo gli ultimi sopralluoghi, restano 4 gli istituti in cui si farà il prelievo. Quindi come vedete l'operazione, scuole sicure, volute comunque dal sindaco di Pesero Matteo Ricci, l'operazione si fa, va avanti. Giovedì e venerdì prossimi, il Comune inizia questo primo turno di screening negli istituti superiori di Pesero per scoprire se tra questi 9.600 soggetti, tra studenti e personale docente ATA delle superiori, ci sia qualche soggetto positivo. Chiaramente come abbiamo detto, come hanno suggerito anche gli esperti, il tampone rapido non è la soluzione di tutti i mali, però certamente può aiutare. In sostanza fotografa la situazione a quel momento, a quel giorno, in quell'istante. Poi è chiaro che uno basta che sale sull'autobus e magari si contagia e quindi annulla l'esito del tampone appena fatto. Ma comunque, questo per dire che l'importante è trovare tra gli asintomatici, perché questo è quello che conta, tra gli asintomatici, coloro che non hanno sintomi, trovare coloro che portano con sé il virus e possono contagiare. Chiaramente, andiamo sulla pagina, sempre su questa pagina, ragazzi annichiliti hanno bisogno dell'aula. Marcella Tinazzi, direttrice scolastica provinciale, dice tanti quattordicenni finora non hanno combinato nulla. Il fenomeno dell'istruzione parentale, sui social ho trovato una maestra contro le mascherine, ho avvertito subito il preside. E poi sui virus, i primi immunizzati, finalmente siamo tranquilli. Parlano Margherita Lambertini e Claudio Cicoli. La Lambertini dice ho avuto la febbre per un giorno, poi è sparito tutto. Mentre Cicoli, sintomi influenzali per qualche ora, adesso è un'altra vita. Sono le dichiarazioni dei medici di Pesero, che soprattutto Cicoli, lo ricorderete, insomma con le sue dichiarazioni ha valorato e sponsorizzato questi vaccini, soprattutto in ambito ospedaliero. Vaccinarsi deve essere un obbligo morale per tutti, così ne usciamo prima. Sperimentiamo Siero Iperimmune, questa è l'intervista che vi segnalo sul Corriere Adriatico di oggi. Siero Iperimmune per noi può essere la strada giusta, dice Frausini di Marche Nord. Gabriele Frausini è il primario di medicina interna a Marche Nord, lavora a Fano, ora è riconverguito in una doppia sezione di terapia subintensiva. Parla, dirige medicina interna e anche la Stroke Unit di Fano, ha 68 anni, è specializzato in cardiologia e medicina dello sport. E parla in sostanza di come è stata dura, soprattutto la prima ondata, anche la seconda ma mai come la prima, dice Frausini in questa intervista. La nostra unità di crisi sta presentando all'AIFA una proposta di trial, ho fatto la seconda dose del vaccino senza disturbi, ho messo da parte, dice Frausini, la paura. L'intervista di Andrea Taffi la troverete sul giornale di oggi. Trovato morto un 48enne, invece digiunava da tre giorni, l'allarme lanciato dall'ex convivente che non riusciva a contattarlo, sembra che non mangiasse ad intervalli regolari per stare meglio. L'autopsia verificherà se il decesso possa anche dipendere appunto dalla carenza di cibo. Quest'uomo è un uomo di 48 anni, di nome Andrea Pesarese, personal trainer, a casa da tempo dopo la chiusura delle palestre, è stato trovato morto ieri sera intorno alle 18, nella casa dove viveva da solo a Ronco Sambaccio. Non mangiava da tre giorni, per scelta, a cercarlo era stato l'ex compagna che non riusciva a contattarlo. E Roberto Damiani, nell'articolo di questa mattina, che troverete sul giornale in edicola, spiega un po' quali sono le ipotesi, tra le ipotesi c'è l'infarto o il collasso cardiocircolatorio, ma insomma poi altre ipotesi che fa appunto il giornale. Intervento della polizia invece l'altra sera in un negozio di Villa Fastigi, l'accusa del furto di un pacco di pasta a parapiglia al supermarket, il 113 chiamato a Pantano per un uomo che terrorizzava moglie e bambini, ci sono anche casi di maltrattamenti, insomma la presunta sparizione risaliva poi ad un mese fa. Qui la cronaca insomma sul giornale di questa mattina, come lanciava fuochi d'artificio, denunciato un 31enne, l'esplosione lo scorso luglio aveva provocato danni all'udito ad una ragazza, le indagini dei carabinieri hanno portato anche a un sequestro di attrezzature, ha esploso questi grossi petardi nel parcheggio del condominio di Marotta, siamo a Pesaro, Urbino, causando lesioni all'udito di una ragazza, e non contento il giorno successivo ha sparato veri e propri fuochi d'artificio sul bagnasciuga in prossimità dello stesso edificio, si tratta di un 31enne di origini campane ma che è residente a Gubbio ed è stato identificato dai carabinieri della stazione di Mondavio. Apriamo adesso, torniamo un attimo sul resto del callino di Nazionale, perché c'è l'invito del Papa, di Papa Francesco, a spegnere il cellulare. Sono due pagine che vi segnalo questa mattina in rassegna stampa, anche se non sono locali, ma tanto tutti usiamo il cellulare, e quindi vale la pena soffermarsi un attimo. La preghiera del Papa, spegnete il cellulare, nell'Omelia l'appello contro l'abuso delle nuove tecnologie, SOS dei pediatri, 6 studenti su 10 distratti dal telefonino a scuola. Sono 500.000 quelli che hanno dipendenza da Internet e i ragazzi sono a rischio. Ci sono una maria di ragazzini, di bambini, che passano ore e ore davanti allo schermo, su TikTok per esempio, questo social network cinese che Trump tra l'altro aveva proibito negli Stati Uniti, e che ha provocato anche una delle tante vittime, perché vittime che arrivano al punto estremo, quindi alla morte, ma ce ne sono tante altre che restano vittime e che si fondono il cervello in altro modo. Questa fotografia che adesso vi faccio vedere è una foto che già in tanti avranno sicuramente visto, si tratta di Antonella Sicomero, dieci anni, questa bambina è morta a Palermo, perché attraverso questa applicazione, attraverso il cellulare, ha accettato una sfida, una sfida insieme ad altre persone, sempre via cellulare, una sfida estrema che però appunto le ha provocato e procurato la morte. Smartphone ai bambini adesso potrebbero essere vietati per legge, la sottosegretaria dice fissare regole e limiti, Zampa della Salute sposa la proposta del senatore Azzurro Cangini che dice l'età minima per il cellulare dalla quinta elementare, più poteri anche alla Polizia Postale. Come è morta, è morta soffocata. È una sfida estrema, quella a cui ha partecipato questa bambina Antonella, è una sfida che appunto è partita da questo social network che si chiama TikTok. A Fano, la Corriere Adriatico, una superstrada dalle gravi carenze, due corsie anche con il traffico locale. Fano Grosseto, ci saranno tanti accessi privati, l'ingegnere Paccapelo l'aveva progettata completa, questa dice è una pezza. Baldelli ancora all'intervento dice è insoddisfacente. Trovato morto in casa a 49 anni, si indaga, l'allarma era un cosambaccio, lanciato dall'ex compagna sul posto anche la Polizia. Dalla pagina di Fano del Corriere, oggi il Vescovo in pensione dice tra due anni, restituirò però Sant'Agostino ai Fanesi, tra due anni al compimento del 75esimo anno di età, andrò in pensione e probabilmente mi ritirerò in una casa di riposo del clero a fermo. Ma non voglio lasciare il mio incarico alla guida della Diocese di Fano senza restituire la chiesa di Sant'Agostino ai Fanesi. L'ha dichiarato ieri il Vescovo Armando Trasarti durante l'omelia rivolta agli abitanti di Carignano che hanno celebrato la festa di Sant'Antonio Abate, una ricorrenza molto sentita nel paese che solitamente accompagna dalla benedizione degli animali e purtroppo quest'anno non si è potuto organizzare con la solita vivacità per le norme anti-Covid. Vedete in questa fotografia, oltre al Vescovo, qui al centro anche il sindaco di Fano Massimo Seri che ha partecipato come amministrazione. Poi addigo a Nicolelli, storico barbiere, fece nascere Sapori e Aromi, evento inventato per finanziare nel 1988 il suo trapianto di cuore. Poi sotto ancora il rispetto delle regole un bene per tutti, la comandante della Polizia Locale alla festa del corpo a Bellocchi per San Sebastiano. Dunque due feste ieri a Bellocchi. Quella di San Sebastiano, titolare della chiesa della frazione consacrata nel 1502, è oggi sostituita dalla nuova chiesa che sorge sull'altro lato della prima strada, e quella del santo patrono della Polizia Locale che, dato che il santo vissuto all'epoca di Diocleziano, era un pretoriano al servizio appunto dell'imperatore. In questa fotografia ancora il vescovo Armando Trasarti, tra l'assessore Cucchiarini, il vice sindaco Fanesi, poi c'è anche il comandante appunto Anna Rita Montagna. Fan Urbino spingerà l'economia sul carlino di oggi. Il senatore Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori Pubblici, parla di ferrovia e lavori stradali. Sotto invece è morto Serafino Trufelli, ex funzionario della CISL. Aveva 62 anni ed era malato da tempo. Oggi pomeriggio alle ore 16 a San Pietro in Calibano il funerale appunto di questo sindacalista. Vallefoglia, l'ufficiale salvò gli ebrei, ora diventerà un giusto. Riconoscimento alla memoria del tedesco Eder che ha portato la famiglia Sarano. E poi da Urbino, Ambera vive l'indagine in modo disperato. Ora studia e lavora e non ha più sentito Igli. Parliamo dell'omicidio Lulli. L'Avvocato Chiarini analizza la nuova situazione processuale in attesa dell'udienza del GUP. A Pesaro, sulle silicate, barriere impattanti e così 80 residenti firmano l'esposto. Chi abita a ridosso della Stata dei 16 teme che l'intervento possa essere anche rischioso per l'incolumità. Tra poco le previsioni del tempo con le cipolle. Ve lo ricordo, restate con noi fino all'ultimo. Usa petardi e fuochi d'artificio abusivi. Stordita, una ragazza, lesioni all'udito. Denunciato a Marotta, un 31enne. A casa gli trovano anche tre linee di mortai. Le esplosioni sulla spiaggia, appunto, sul litorale di Marotta. Da Senigallia il pronto soccorso perde altri due medici. Doppi turni e stress, situazione al limite. I nove dottori rimasti rinunciano ai riposi invece delle 38 ore settimane di prevista e ne coprono 50. Poi la fotografia del sindaco Olivetti che è andato a festeggiare una sua concittadina ovvero Melina De Vitto che ha festeggiato ieri insieme al sindaco Massimo Olivetti che invece di anni ne ha compiuti 56 i 100 anni. E tra l'altro vi ricordo che Massimo Olivetti il sindaco di Senigallia sarà nostro ospite questa sera in diretta qui agli studi di Fano TV all'interno di Primo Cittadino intervistato da Simona Zonghetti. Adesso lo sport. Il Fano resiste nel fango e poi sfiora il colpo. Il Fano che pareggia 0-0 in casa e Granata reggono di fronte ad un Perugia tosto ma nella seconda parte della ripresa la squadra di destro va vicina al gol. Poi invece la Vispesero che perde 2-1 contro il Legnago nello scontro da 4 punti vista mani vuote. A Legnago emergono i soliti problemi la difesa balla il centrocampo fatica a costruire l'attacco stecca e Marchi sciupa il rigore del pari. Tifosi invece è per questo che i tifosi sono infuriati al Benelli e la squadra sediata a lungo i giocatori non hanno potuto lasciare lo stadio per un'ora e mezza ultra aggrappati e cancelli cori e contestazioni poi il faccia a faccia critiche a Didonato per gli acquisti di ripiego appello a rimediare subito con un mercato di qualità. Poi c'è la pallavolo marchigiana con la Lube che asfalta Cisterna la Lube che vince appunto 3-0 questa è la sesta vittoria mentre sul basket la VL Pesaro che insomma ha stravinto 107-83 in casa contro Cantù questa VL è un'altra roba Pesaro travolge Cantù e si ritrova sola al sesto posto dietro le 5 grandi serata top come i tempi della Scavolini la Vigilar invece per quanto riguarda il volley di Serie A3 la Vigilar Fano al tappeto Quante Amara Torino Fano parte male poi si rialza ma perde Ruiz per infortunio quarto set combattuto ma la spuntano i piemontesi poi tra l'altro va detto a proposito di squadre di Serie A3 marchigiane invece la bella vittoria terza vittoria consecutiva della Medstore Macerata e adesso invece andiamo a vedere le previsioni del tempo con le cipolle allora intanto Emanuela Forlini la vedete la maestra che porta avanti questa tradizione ormai da moltissimi anni iniziata dal nonno prima poi dal papà e adesso da lei appunto la notte della conversione di San Paolo quindi tra il 24 e il 25 gennaio Emanuela Forlini vedete prende questi spicchi di cipolla 12 2 4 6 e 6 12 esattamente sopra ci mette un pizzico di sale poi espone questo tagliere sul terrazzo rivolto verso oriente questa è un po' la tradizione che cosa succede all'indomani quindi pochi minuti fa questa mattina presto ha preso questo tagliere dopo che è stato esposto tutta la notte e legge nel senso che guardando come sono questi questi chicchi di sale questi questi pizzichini di sale li legge tra virgolette vede se si sono sciolti se sono rimasti queste cose le sa fare solo lei e quindi poi dà una sua interpretazione allora andiamo a vedere come saranno questi 12 mesi velocemente abbiamo tre minuti allora gennaio lo spicchio di cipolla per il mese di gennaio conferma la variabilità del mese ormai mancano pochi giorni e quindi è finito febbraio caratterizzato da giornate molto fredde più gelo e galaverna che vere e proprie precipitazioni nevose a marzo scarso di pioggia ma molto ventoso ad aprile bel mese molte giornate tiepide e di sole maggio bel tempo al contrario di quanto dicono i giorni conterecci giugno variabile ma verso il bello soltanto qualche giorno piovoso nella prima parte del mese a luglio invece tutto bel tempo agosto bel tempo qualche giorno piovoso verso la fine del mese settembre a settembre un bel mese settembre un bel mese con temperature ancora estive a ottobre inizio mese mite ma inizio mite dell'autunno con tempo ancora buono quindi a ottobre sarà buono novembre poco piovoso con molte nebbie a dicembre temperature fredde molte giornate di gelo queste sono le previsioni le troverete tra qualche minuto anche sul nostro sito internet occhiolanotizia.it io ringrazio Emanuele Forlini con la quale ci siamo sentiti prima di andare in onda per la tempestività e grazie a voi invece per averci seguito a stasera a stasera a stasera a stasera Grazie a tutti